Ciao a tutti raga, bella raga, scasco, oggi siamo qui, tornati su questo bellissimo gioco, Geometry Dash, pronti per completare il livello 2, dai ragazzi che ce la dobbiamo fare ad ogni costo, dai non è così difficile, è un nuovo account questo, quindi ho rifatto tutto da capo, il livello 1 l'ho già completato, perfetto ragazzi io vi ricordo di lasciare like, iscrivetevi al canale se volete altri video perché ragazzi io non è che ho tanta voglia di fare video se voi non li guardate, eh che senso ha? Ok va bene dai 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 siamo arrivati a questa parte e niente dai 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 che ce la possiamo fare, questa navicella spaziale, perfetto ragazzi ditemi che altri video vorreste, se mi commentate perché ragazzi io voglio commenti, il mio canale si basa sui commenti ma di commenti io non ne vedo cavolo, dai dai su su un po' di un po' di brio, perfetto, ma vaffami, ok ragazzi ci riproviamo, abbiamo perso, è andata male, è andata male, noi la musicetta sotto ce la lasciamo perché mi piace molto dai ragazzi eh, ce la possiamo fare dai dai ok 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 dai dai, il primo pezzo è abbastanza easy a parte ogni tanto che muoio per delle cavolate che faccio a casissimo robe strane, vabbè ragazzi, lo sapete che è il vostro drafio degli alti e bassi ok, devo riuscire a completare il secondo livello forza, 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 ok siamo tornati alla navicella spaziale ragazzi in questo giorno mi sto lanciando come rapper quindi non vi dico niente però fra un po' di tempo bisogna vedere quando perché non so, sei mesi, sei anni potrà uscire qualcosa vi spie... vi... non vi spoilerò altro perfetto, perfetto, ok fantastico oh no, mannaggia e che palle, la pubblicità no, ok ragazzi non è difficile, cioè non è impossibile ce la possiamo fare ok, ce la possiamo fare aspettiamo ok mannaggia, sorella perfetto mi è insultato perfetto ragazzi ci riproviamo noi siamo arrivati al 90% cavolo, per pochissimo siamo arrivati al 96% l'ultima volta che abbiamo fatto un video di Geometry Dash insieme stavolta dai proviamo a fare il 100% perché dai su bisogna sempre, 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 sempre cercare di fare di meglio non ci accontentiamo ancora del 96% oggi noi vogliamo il 100% perfetto, ok dai, il primo pezzo lo facciamo meglio che mi sto zitto perfetto va bene va bene boys perfetto boys and girls ve l'ho detto che ogni tanto faccio qualche minchiata anch'io però, vabbè, dai ci può stare abbiamo fatto tre tentativi buoni un paio di minchiate ci stanno ogni tanto sarebbe meglio non farle però io le faccio perché raga non sono Gesù solo Gesù non le faceva un bacione a Gesù che ci assiste dall'alto dei cieli o a chiunque previate voi vi raccomando ragazzi io vi consiglio di avere fede perché forse no si vive male beh, più o meno cioè, allora ragazzi ho detto quello che penso io ma noi non ci spostiamo sulla relì porco ok ci proviamo dai 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 ragazzi dai 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 su 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 non cambiamo argomento adesso dobbiamo tryhardare ok ok saltino 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 ok ok quando inizio a pompare la musica secondo me se riusciamo la prossima volta che riusciamo ad arrivare alla nevicella ce la facciamo in intervedere ragazzi fantastico vai 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 le scale sulle scale vai vai ok ok si 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 perfetto eccoci qua siamo alla navicella non sbagliamo qua non sbagliamo qua non dobbiamo sbagliare grazie attento a non sbagliare ok dai dai ok ok vai su saltino saltino perfetto perfetto dai 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 raga ok qua salto qua salto qua salto vai 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 raga dai che ce la stiamo facendo nooo quanto ho fatto quanto ho fatto raga ero arrivato ero arrivato non ci credo credo mancasse pochissimo eh che palle bene ragazzi io direi di fare gli ultimi tentativi e poi basta perché dai se no ci riproviamo un'altra volta vai tu 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 saltino vai 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 dai 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 signor quadrato dai che ce la possiamo fare insieme ragazzi voglio farcela con voi non voglio farcela da solo quindi per piacere per piacere per piacere signor quadrato veda di non morire che ne sarei molto grato che ne sarei molto grato comunque ragazzi la scuola è finalmente finita per voi io quest'anno ho gli esami spero vada bene penso di sì perché comunque scrivetemi se voi fate la scuola fate se fate la terza media che scuola avete scelto oppure come vi è andato l'anno scolastico beh sinceramente è andato bene potevo fare qualcosina in più però dai è andato bene perfetto è la mia parte mannaggia ok ragazzi io direi di fare gli ultimi due tentativi se ci riusciamo bene se non ci riusciamo mannaggia qualcuno e niente ce la faremo in un prossimo video o se no vedo se vi taglio o cosa però voglio farcela insieme a voi dai ragazzi su 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 forza 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 come direbbe xyudo forza 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 mani tua madre evitiamo ok saltino da questa parte saltino di qua vai nella navicella nella navicella ragazzi su su magna il cielo magna il cielo che questo ragazzi è il tentativo buono ce la faremo adesso ce la faremo me lo dico io adesso ce la faremo questo è il tentativo buono forza ok no ma come non mi ha saltato no ragazzi non mi ha saltato non ci credo dai però seppure il telefono ci si mette ok no vabbè questo non valeva perché non è anche questo valeva dai 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 su ragazzi dai che è comunque voi a che giochi state giocando in questo periodo dai raccontatemi un po' su su voglio voglio sapere le vostre abitudini voglio sapere tutto di voi no scherzo non è vero però dai se mi raccontate io vi racconto di me e voi raccontatemi un po' di voi stessi dai su su ok qui saltini saltini fin qui è tutto abbastanza easy tranne quando muoio ok ok siamo alla malicella ok stavo soffocando no non è vero però quasi ok ok dai dai su ok questo pezzo è abbastanza facile ok forza forza ce l'abbiamo fatta ragazzi ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ragazzi livello completato livello completato e dai ragazzi la pubblicità fa niente fa niente ragazzi abbiamo completato questo bellissimo livello signori e signori e io direi che il video può essere concluso quando se ne va via la pubblicità amazon io ce l'ho già vabbè perfetto ragazzi primo livello già completato nel prossimo video proveremo a fare il terzo livello e quindi niente ragazzi e ci vediamo in un prossimo video bbbbbbbbbbbbbb